Arezzo diventi una città senza plastica, questa l'ambiziosa proposta di Francesco Romizzi e Donato Caporali contenuta nell'atto di indirizzo che hanno presentato in Consiglio Comunale. Grazie all'idea del comitato possibile di Arezzo insieme al consigliere Caporali abbiamo presentato un atto di indirizzo in Consiglio Comunale che impegna l'amministrazione comunale e in qualche modo ad anticipare quello che poi sarà legge grazie ad una direttiva europea dal 2021 ovvero il fatto che non si utilizzi più plastica a monouso che come sapete tutti molto bene è fonte di inquinamento dei mari e di difficoltà anche di riciclo in molti casi come sappiamo e quindi noi chiediamo che l'amministrazione comunale come hanno fatto altre amministrazioni in giro anche per la Toscana come sta facendo Nardella a Firenze come sta facendo altri comuni della costa soprattutto di essere uno dei comuni che anticipa la delibera quindi elimina l'utilizzo della plastica a monouso in qualunque tipo di manifestazione dove il comune è presente, Sagre e quant'altro e imposta capitolati di gara dove la plastica a monouso non c'è più. Dopodiché l'altro intervento che chiediamo è che si intervenga anche rispetto alla tassazione premiando quegli esercizi commerciali che fanno una scelta di questo tipo quindi negozi plastic free e quindi premiazione, premi scusate dal punto di vista della tassazione su chi fa questa scelta che è una scelta per l'ambiente e per la salute di tutti i cittadini.